Ottobre, fino a pochi anni fa il periodo delle piogge, e delle prime nevicate abbondanti in alta quota, finisce in Piemonte con una triplice emergenza. Gli incendi, che stanno devastando i boschi, in particolare la Valle di Susa, e in provincia di Cuneo, lo smog, con Torino città più inquinata d'Italia, e la siccità, con fiumi, laghi e riserve idriche al minimo. È lo specchio dell'allarme ambientale che riguarda tutto il paese. Il governo ha varato misure per contrastare gli sprechi d'acqua, stanziando 4 miliardi, e mezzo per la riduzione delle perdite dalla rete idrica. Nella legge di bilancio inoltre c'è un piano contro la siccità, per valorizzare l'accumulo in 2000 bacini di piccole e medie dimensioni, ha annunciato il premier Paolo Gentiloni. Nel 2017, fa notare la Coldiretti, gli incendi boschivi sono triplicati rispetto al 2016, è una stagione drammatica che ha ripercussione anche sulle semine autunnali, come il grano. In Piemonte per tutto il giorno sono stati impegnati aerei canadaire ed elicotteri. Al lavoro 270 vigili del fuoco, impegnati a fronteggiare soprattutto i rughi di bussoleno e caprie. Decine di persone, sono state fatte allontanare dalle loro case, lambite dalle fiamme nelle frazioni dei paesi Valsusini. Incendi estesi anche in Valle Stura e all'imbocco della Valle Po, nel Cuneoese, e nella Baraggia Biellese.